Ritengo che questo per il nostro paese, io non demonizzo affatto il Movimento 5 Stelle eccetera, ma ritengo che questo per un paese, avere un governo domani, Movimento 5 Stelle, non sia precisamente salutare per il nostro paese in questa fase. Ecco, diciamola così. Non è salutare, dottoressa Silone, faccio ancora un giro con voi tutti perché mi interessa sapere la questione. Condivido assolutamente che non sia salutare, piuttosto venga la troica, lo dico con una battuta, ma nemmeno tanto. Insomma, lasciare il ca... per questo dicevo prima, non resta che davvero confidare in Renzi, perché dopo Renzi non può chi essere... Un fallimento di Renzi è un fallimento nostro, che sia Movimento 5 Stelle o che sia che vengono da fuori a dirci cosa dobbiamo fare e forse a salvarci. Per il Movimento 5 Stelle forse dovrebbe essere messo alla prova del governo. Con questi programmi? No. Facciamo crack. Cioè, se vogliamo veramente avere una situazione di default, allora possiamo affidare tranquillamente il governo al Movimento 5 Stelle. Attenzione, potrebbe anche succedere se appunto si realizzano quelle condizioni. D'altronde siamo, per certi aspetti, in una condizione politica breve, immariana o quasi, sulla disoccupazione, sul livello di inciviltà del dibattito pubblico. Insomma, ci sono elementi di forte preoccupazione secondo me. Questo è un paese che ha 1.600 miliardi di PIL, una crescita anemica, il 42% di giovani disoccupati, 2.000 miliardi di debito, 2.100 miliardi di debito, il debito che cresce è lo spettro della deflazione. Dio non voglia che arrivi anche quello quest'anno. Potete immaginare se il 5 Stelle è la risposta a questo tipo di scenario. Sì, Mario Secchi, il deflazione lo abbiamo rischiato e forse lo rischiamo ancora, ma non per colpa del Movimento 5 Stelle, ma di quelli che ci sono stati prima. Allora, tu prima parlavi del principio di realtà, io ti parlo di un principio più banale, il nesso tra causa ed effetti. E se, questo purtroppo è così, se non si riesce, come non si riesce ormai da 20 anni, a dare una, a governare, nel vero senso della parola, a questo paese, l'effetto sarà il Movimento 5 Stelle. E ce lo mettiamo tutto, anche se non ci piace. Vorrei evitarlo. Cerchiamo di fare allora dei governi che funzionano, non dei governi figurini. Vedremo se il governo Renzi funzionerà, ultima battuta per Cacciari. La forza del Movimento 5 Stelle è la sua innocenza, certo. Non è lui la causa dei nostri drammi, ma il problema è che non è neanche la medicina. Temo, temo che non sia la medicina. Per lo meno, per il momento, non ha fatto nulla per dimostrare di essere la medicina. Non ha voluto prendere responsabilità dirette da nessuna parte, dalle elezioni in poi. Insomma, lui aspetta, come è stato detto giustamente, il cadavere del sistema. Per sostituirlo, come? Non è che sia una politica molto rassicurante quella di coloro che aspettano che passi il cadavere del nemico lungo il fiume. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.